Ciao ragazzi, sono Mario il coach, scusatemi, e sono a fine allenamento e quindi mi veniva da fare un pensiero a voce alta, ma quanto è bello avere quella sensazione precisa di performare, quella sensazione di avere i muscoli che tirano, spingono, saltano, corrono, sollevano, tutto magari allo stesso tempo, avere questa percezione perfetta, quindi avere una performance generale, mi veniva proprio da pensare questo, quanto effettivamente è fantastica questa sensazione, si d'accordo, mi direte Mario ma ci vuole allenamento, ci vuole costanza, d'accordissimo, però il mio è un pensiero molto più generale, senza scendere nei dettagli, volevo trasferirti questa cosa perché delle volte vedo praticare delle discipline, alcuni ragazzi che magari sarebbero portati completamente per altre, era questo il pensiero, si avvicinano diversi allievi che quando arrivano qua sembrano degli atleti nati, o meglio degli atleti mancati più delle volte, riflettevo su questo, quanto effettivamente sarebbe importante che da parte tua, avresti qualche informazione più o ti informeresti di più su che tipo di disciplina, prova, sii curioso, indaga, approfondisci, perdi un po' di tempo su qualcosa che poi effettivamente non solo ti può dare il risultato sull'aspetto fisico, vero? Ma te lo può dare anche sull'aspetto mentale, qualcosa che effettivamente ti stimola ogni giorno. Quindi ragazzi volevo solo darti questo messaggio, spero di essere stato occhiato, volevo trasferire questo pensiero a voce alta, io ti ringrazio di aver guardato questo video, ti invito quindi a guardare sotto nelle descrizioni perché puoi trovare dei link utili per te per imparare ad allenarti in tutta sicurezza. Ancora ti dico grazie, l'avevo dato questo video, iscriviti al canale se ti va o lascia un mi piace e noi ci vediamo alla prossima, allenati bene, ciao!